Primo gennaio 2020. Mi sveglio malissimo. Non ero in hangover, ma stavo per andare a fare un'esperienza che mi spaventava moltissimo. Quel giorno Alberto Ronchi, esperto della disciplina del free ski, mi avrebbe portato a sciare il canale Holzer sul passo Pordoi. Nel free ski definiamo una linea, una discesa che parte da in cima alla montagna e arriva fino in fondo, in teoria. La linea tratteggiata è il punto dove saremo scesi e la X era una calata di più o meno 15 metri in corda che rendeva tutto molto più pericoloso e rischioso. Da qua sembra in piano, ma qui vedete quanto è ripida la linea, quanto è stretto e quel giorno lì la neve era particolarmente dura, quindi scivolare avrebbe comportato conseguenze poco piacevoli. Quel tratto di linea andò benissimo, non fecimo errori, quindi tornammo su, pranzammo e verso fine giornata successe l'inaspettato. Ormai la parte difficile era finita, quindi eravamo ancora in fuori pista, vedevamo la seggiovia e io andavo dietro Alberto anche abbastanza piano. In quel punto mi usci e prese una pietra che era nascosta sotto la neve, persi l'equilibrio e ancora prima di riuscire a tirarmi su mi accorsi che stavo cadendo da un precipizio. In quel momento io non riuscivo a vedere quanto fosse alto, poteva essere 500 metri, 50, 10, ma la prima sensazione fu proprio sto morendo in questo momento. Poi l'istinto di sopravvivenza prese la meglio, quindi misi le mani in avanti per scansare la prima roccia, perché comunque ormai stavo volando nel vuoto, mi girai verso il cielo cercando di attutire l'impatto e attesi. Rilassatevi comunque, sono vivo eh, non è andata così male eh. Tocca il suolo. Sai, quando senti tanta adrenalina non provi subito dolore. Casco, mascherina, giacca, erano completamente rotti, sentivo Alberto che urlava, guardai in alto e comunque ero caduto da più di 20 metri, ma ero totalmente illeso. Quel giorno lì ho smisi di far sport, iniziare a giocare a carte per limitare ogni rischio. Ovviamente no. Il cambiamento non fu immediato, l'unico modo per me per metabolizzare l'accaduto era che essere intenzionati a iniziare, anche se non sappiamo neanche da dove, è un ottimo punto di partenza. Non avevo un pensiero migliore per metabolizzare quello che era successo perché comunque sapevo che la vita voleva comunicarmi qualcosa, ma in quel momento non riuscivo ad andare più in là. Anche perché comunque quando siamo abituati a fare certe cose da tutta la vita è difficile cambiare, ci vuole pazienza. Io per molti anni ho intrapreso una carriera di freeride mountain biker, nella sinistra saltavo un canyon di tipo 20 metri nel deserto dello Utah durante la Red Bull Rampage, che è la competizione più rinomata di questa disciplina, mentre sulla destra stavo saltando un treno in Canada mentre filmavamo per un progetto. In quest'aula c'è uno dei complici. Voi vi starete chiedendo ma che senso ha fare queste cose qua. Infatti l'unica cosa che avevo chiara in quel periodo era che non avevo nessuna risposta a perché lo faccio realmente. Forse in quel periodo non avevo coraggio di confrontarmi e di essere totalmente onesto con me stesso perché sapevo che c'erano delle parti di insicurezza che stavo negando. Sicuramente l'esuberanza del momento, l'esilerazione di confrontare questi limiti, il divertimento mi ha sempre portato avanti a spingermi ad affrontare queste sfide. Infatti, come ho già detto, la vita ci vuole sempre comunicare qualcosa e dopo un anno e mezzo dell'accaduto ci furono altri due episodi che mi fecero capire che era arrivato il momento di cambiare. La morte di mio padre mi mise a confronto con le relazioni con la mia famiglia, di come esperienze passate, vissute anche da bambino, avevano condizionato così tanto il mio comportamento. Mentre la fine della mia ultima relazione sentimentale mi fece rispiecchiare i miei difetti, i miei conflitti interiori. E fu lì che capì che analizzando come ci rapportiamo con gli altri possiamo conoscere noi stessi più a fondo. Fu un momento della mia vita dove mi ritrovai con una specie di vicolo cieco. Ormai è raggiunto il momento di confrontare queste cose che volevo nascondere a me stesso. Iniziò un periodo più scuro, ma non tanto associato con qualcosa di negativo, ma sapevo che è arrivato il momento di far luce in queste zone più buie della mia vita. E quando affrontiamo periodi bui, anche uno spiraglio di luce ci può dare la direzione da seguire. Infatti ricordo che stavo andando a cena da un amico e la mia visione di quel momento era vignettata, come se ci fosse un alone più scuro intorno a quello che vedevo. Riva in cima alle scale e trovai un libro appoggiato sul tavolo illuminato da una luce. Presi in mano, lessi la trama e decisi che l'avrei letto fino in fondo. Il libro si intitola Il Monaco che vendette la sua Ferrari. Questa non è la copertina, però quello sono io. Non sono a Monaco, non voglio esserlo, non ho mai avuto una Ferrari. Quel libro per me divenne un manuale, una guida verso la spiritualità, l'illuminazione, non che mi sarei illuminato come una lampadina o che avrei iniziato a vivere come un'eremita, ma cominciavo a capire che c'erano degli strumenti a portata di mano che potevo utilizzare per capire come funzionava la mia mente, i miei pensieri, da dove arrivavano le mie emozioni. Qui iniziai a capire di più la filosofia dello yoga, della meditazione. Cominciai a fare viaggi solitari e ho conosciuto tipi fuori dal mondo, guru e sciamani in ogni situazione. Pensate che una volta ero in Guatemala e uno sciamano mi fece sputare il fuoco per bruciare le mie illusioni. Io mi bruciai solo i capelli, perché infatti qua non crescono più, sarà dovuto a quello. Fu comunque un periodo abbastanza destabilizzante perché io dovetti lasciare andare tutte le credenze limitanti che avevo accumulato in passato e che comunque mi stavano influenzando veramente tanto. Una delle più grandi scoperte in quel periodo era che l'insoddisfazione è alimentata dal nostro ego, dalla mancanza di gratitudine e dell'attaccamento. Per questo vogliamo sempre di più. Infatti io notavo una carolazione diretta tra la grandezza delle imprese che volevo fare, nello sport ma anche poi anche nel lavoro, con il vuoto che si ingrandiva sempre di più dentro di me. Quindi cercavo di identificarmi con un certo ruolo, con una certa descrizione, con dei numeri. Come se la felicità fosse basata esternamente? Infatti mi creavo problemi da affrontare per evitare di confrontare me stesso. Questo succede perché a volte ci creiamo delle sfide esterne per fingere di essere in controllo, di essere coraggiosi. Quasi come un diversivo per non affrontare invece quello che abbiamo dentro, per non affrontare le cose vere che ci spaventano, le sicurezze, i demoni. Sta foto mi fa ridere perché sembra che ci sia un uccello infuocato. Magari lo sciamano aveva mezzo ragione. Per me comunque la vita è come un oceano, siamo tutti marinai, quindi dobbiamo confrontarci in un modo o nell'altro con l'oceano. Credo che nessun marinaio diventò possibile navigando in un mare calmo. Quindi io al giorno d'oggi continuo a prendere dei rischi che magari la maggior parte delle persone non vogliono avere nulla a che fare. Continuo a fare questi sport qua. Lo faccio perché credo che dobbiamo trovare un modo per crescere, per conoscerci, per apprendere. Io lo faccio così. Anche essere qua sul palco oggi è un modo per uscire dalla mia zona di comfort. C'è chi lo fa cucinando, ballando, disegnando, pitturando. Anche voi comunque vi state prendendo un bel rischio di essere qua fino a questo momento. Oggi guardo indietro e capisco che non è successo a te, ma per te, per me. Gli errori che commisi in passato diventano lezioni. Il dolore che magari provai in passato in questi episodi è ancora presente, però è proprio quello che tiene acceso questo fuoco di voler continuare a esplorare dentro di me. Oggi il significato che do a quella linea, a quell'incidente che è successo nel passo Pordoi è che la linea tra vita e morte è molto sottile. Adesso se ve la sentite facciamo un esercizio tutti insieme. Me l'ha insegnato uno sciamano. Non c'è il fuoco questa volta, è fortuna. Pochi cappelli rimasti mi piacciono, vorrei tenermeli. Però potete ispirare fortemente dal naso, ispirando dalla bocca, lasciando andare tensione dalle vostre spalle, dalle braccia, dalle gambe. Portate la mano destra sul cuore. Portate attenzione a questo battito. Qualcuno prima ne ha parlato, che è un movimento che non controlliamo, che a volte diamo per scontato. Sentite che sale, scende, si spegne, si accende, vive, muore. È proprio grazie a questo ritmo che possiamo scegliere che linea deve seguire la nostra vita e in ogni momento ci ricorda se stiamo davvero vivendo la vita che vogliamo, la nostra vita o quella di qualcun altro. Grazie. Grazie.